Ciao a tutte, allora questo è un video che mi era stato richiesto da voi ed è un video applicazione dei fondotinta di Wet n Wild uno è il Foco Focus e l'altro è il Coveral allora vi dico già che questo sicuramente non sarà una colorazione giusta per me comunque la proviamo insieme io li ho acquistati a 4 euro l'uno però non li ho ancora utilizzati aspettavo di fare un video appunto di applicazione e prime impressioni con voi ho avvicinato la videocamera per farvi vedere meglio e applicherò su metà viso un fondotinta e sull'altra metà l'altro fondotinta allora partiamo con questo qua allora questa qua è la colorazione Classic Beige ed è un fondotinta abbastanza liquido che ha questa palettina io lo applicherò con una spugnettina prendo lo specchio e lo vado a picchiettare allora ho visto provando appunto i prodotti in negozio ho visto che poi i t e due dopo un pochino ossidano e diventano, cambiano proprio colore ho visto però uno cambia colore e più o meno diventa del mio colorito l'altro rimane molto scuro come si può già notare che è molto più scuro del mio per naso però in negozio con la luce che c'era sembrava potesse andare bene in realtà non è così assolutamente è abbastanza aranciato quindi se avete un sottotono rosa rosato non fa assolutamente per voi allora si stende molto 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 bene devo dire che al di là della colorazione che non è assolutamente la mia è comunque abbastanza coprente molto coprente perché io comunque avevo delle imperfezioni e le ha coperte molto bene già alla prima passata e comunque dà un effetto molto naturale perché al di là della colorazione che è sbagliata però non si nota sulla pelle quindi se fosse stata la mia colorazione veramente non si sarebbe visto e inoltre non è pesante non è pesante sulla pelle quindi come fondotinta così a primissima impressione è un ottimo fondotinta molto coprente molto bella anche l'effetto mi raccomando prendete la colorazione giusta ecco perché comunque ora poi aspetteremo un pochino per vedere quando si ossida come cosa succede intanto metto nell'altra parte del viso questo qua che a differenza di quello lì che è in paletta questo ha il tubicino mi sa che ne ho messo troppo vabbè ho messo un quintale allora questo come texture è molto è più fresco diciamo dà una sensazione di freschezza sul viso la profumazione questo qua è quasi inesistente dell'altro il focus focus ha una profumazione molto strana cioè non cattiva però particolare questo tipo di pane diciamo che come coprenza ci siamo con tutte e due fondotinta mi piacciono entrambi sono abbastanza coprenti e sembrano sembrano anche abbastanza modulabili tutte e due hanno un effetto molto naturale sul viso non so cosa riuscirete a vedere in camera comunque l'effetto è molto naturale anche questo è un pochino più scuretto rispetto alla mia pelle però poi ossidando si avevo visto almeno quando l'ho provato sulla mano che più o meno ci poteva stare comunque calcoliamo che si va sull'estate quindi mi abbronzerò un po' e quindi magari di questa colorazione un po' si aggiusterà quest'altra non ne ho idea sono tutte e due hanno tutte e due un effetto naturale c'è da dire però una cosa che questo qua da subito mi si è asciugato sulla pelle senza andarla a seccare però è asciutto ha un finish molto matt e non si nota assolutamente perché appunto è anche adatto per fare le foto quindi è stato studiato apposta quest'altro è naturale sulla pelle però è un po' più luminoso è un po' più luminoso e quindi se si ha una pelle mista tendente al grasso secondo me si va un po' a lucidare perché vedo proprio che dà questo effetto già di lucido sulla mia pelle che è a mista e sento che mi va un po' anche a sudare questa zona qua quindi diciamo che a prime impressioni questo fondotinta qua lo consiglio o per l'inverno o per chi ha una pelle normale secca mentre quest'altro lo consiglio a tutti ovviamente è più indicato per fare foto quindi però mi sembrano comunque ottimi fondotinta casomai vi metto un pezzettino di video mi metto alla finestra per farvi vedere magari un pochino più di per farvi vedere meglio il colore comunque sono due fondotinta assolutamente che così a prima impressione promuovo entrambi allora spero riusciate a vedere sarà un po' traballante ma la reflex pesa comunque qua ho il focus e qua invece ho l'altro fondotinta questa è con la luce della finestra sentirete anche i rumori della strada molto probabilmente comunque questi sono i due fondotinta come si può vedere quello di qua si sta già schiarendo un po' quindi molto meglio l'altro è sempre un po' scurino si vede molto lo stacco col collo ovviamente non ho sfumato sul collo perché volevo appunto farvi vedere solamente il fondotinta comunque questi sono due fondotinta comunque a livello di coprenza ci siamo sono molto buoni entrambi quindi se cercate un prodotto coprente ma allo stesso tempo che vi dia un effetto naturale sul viso questi sono perfetti quindi niente io vi saluto fatemi sapere se avete provato questi fondotinta e se avete altri prodotti da consigliarmi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao